Ce l'abbiamo fatta Spark in zero su Neapolitan Fresh Channel ragazzi Finalmente non vedevo l'ora Voglio tornare bambino Ho aspettato questa roba per 20 anni Quanto tempo è passato? Non lo so Però finalmente Il nuovo Dragon Ball ragazzi Iniziamo subito Allora noi per prima cosa Guarda il maestro Muten con le riviste Non quelle sporche però Non potevano mettere le riviste sporche Comunque come prima cosa Noi andremo a vedere i vuotiffi I vari personaggi di tutta La lore di Dragon Ball Perché questo roster è enorme ragazzi Cioè il roster di questo gioco è abnorme Gigantesco Wow il torneo Mettiamo le mazzate Ragazzi andiamo subito nei menu Perché ricordano proprio quelli di Budokai Tenkaichi E' un po' strani gli sprite Però c'è tutto Super Saiyan Jin Perché in portoghese Va bene Super Saiyan 3 Kaioken Stanno i vuotiff Stanno tutti i vuotiff C'è capito Anche le cose tipo Dokkan Super Heroes C'è tutto Ozaru Golden Ozaru Golden Ozaru Infinity Goku Goku Super Saiyan 5 Mamma mia F Super Saiyan 8 6 elementare 7 8 elementare 9 elementare 10 elementare 11 elementare 12 elementare 5 5 5 La grafica La grafica mi ricorda un sacco La grafica mi ricorda un sacco Budokai 3 M'ho dato E le combo sono quelle Ricarichiamo il chi Il chi Poter maximo Superbomba d'energia Camaro Troppo bello Ok ok ci siamo Ci siamo ragazzi Ho potere esplosivo De Goku Esi Increibile Combinazione infinita Ma No porca puttana Mondongo Va Oh Mondongo 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 Ma Goku Pelon Spettacolare Cioè Vale la pena Goku Drip E' il momento Da Ok Io direi di cambiare Anche un po' arena Perché è così alto Il volume Fare un po' di Ranked In arene diverse Però il feeling Il feeling è quello Di Budokai Bellissimo Tavoletta Madonna Why you In pvp La gente mi buca Ha un'altra Ranked Ragazzi Perché non esiste Pava 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 Fantastico Grazie Io per l'occasione Ho scelto John Wick Vediamo contro chi comba Contro Saita McQueen Ok 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 Come è fortissima La gente Il ranked Aiuto Andiamo a iniziare Non hanno risparmiato Sulle animazioni Non hanno risparmiato Sulle animazioni Qua si gode Ragazzi In Sparking Zero C'è un minigioco retro Che è questo qua Il seguente Vedete la grafica retro Perché è una citazione Però il volume è altissimo Belle La citazione retro A porunga Fantastico Con questo 3D Molto Molto PS1 Bella citazione Mi piace Ok Ok è finito È finito No non è finito Il gioco ha aggiornato Perché c'erano dei problemini Per fortuna hanno fatto Una patch al day one Che Diciamo sto registrando Dopo questo video Sto facendo una ranked Quindi ora dovrebbe essere Tutto a posto Finalmente ho avuto Qualche problemino Ok 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 Ok